Bentornati ragazzi e ragazze, sono Erme e benvenuti in questo nuovo video vlog Oggi come potete vedere dal titolo siamo in un video abbastanza particolare Infatti vedete leggere, oggi sponsorizzo i vostri canali youtube Ma non li sponsorizzerò in questo video e non su youtube Bensì lo farò attraverso un'altra piattaforma Una piattaforma che sta andando molto di moda nell'ultimo periodo appunto Ovvero telegram Perché telegram appunto dà la possibilità di creare dei canali In cui solamente un personaggio, come appunto dei canali youtube Solamente un personaggio può scrivere, postare foto, video o audio In quel caso sarei io E appunto poi le persone che si uniscono a quel canale e lo seguono Ricevono le notifiche appunto come se fossero dei messaggi whatsapp Quindi è molto diciamo più veloce il collegamento tra lo youtuber e i suoi iscritti Avevo intenzione di appunto aprire questo canale telegram Ovviamente anche per condividere i miei video Insomma quello che faccio Se magari vi devo dire che è un video spostato di un orario ad un orario Da un giorno o un altro E utilizzare appunto questa piattaforma anche per sponsorizzare qualche canale A me piace particolarmente Infatti ci sono un sacco di persone che mi iscrivono Sponsorizzi Oppure ti iscrivi al mio canale Faccio bei video E ovviamente ho pensato di provare ad aiutarli nel mio piccolo appunto facendo ciò Come funziona il metodo delle sponsorizzazioni? Voi dovete inviarmi un link appunto del vostro canale Con diciamo un paio di righe di presentazione Non sono un ragazzo Quello lo capisco Che genere di video trattate Bene o male di quanto sono lunghi i vostri video Che programmi utilizzate per editare sia le miniature che i video E poi semplicemente il link Queste quattro cose Voi dovete inviarmele sulla pagina facebook Che trovate sempre in descrizione come un messaggio alla pagina Non preoccupate se non vi rispondo a quel messaggio Basta che lo visualizzo Voi sappiate che io ho guardato il vostro canale E ogni diciamo Più o meno ogni 20 persone che si uniranno al canale telegram Io sponsorizzerò un qualche canale Quindi ogni 20 persone sponsorizzerò un canale Ovviamente questo 20 persone può valere per l'inizio Poi ovviamente a lungo andare ho 700 iscritti O di cui bene o male massimo che ne so 300 Sono più o meno attivi Però diciamo che a lungo andare poi queste cifre Avranno ridotte diciamo poi vedremo più avanti In base a come andrà il canale telegram Io non vi rubo altro tempo Spero che questo video vi sia piaciuto E sia stato di vostro gradimento E possa essere di vostro aiuto appunto Questo mio pensiero appunto Per aiutarvi a crescere un po' Su youtube Soprattutto per i youtuber piccolini Emergenti però che hanno diciamo delle potenzialità Il mio nome è come sempre Passate dal canale ovviamente quindi anche Del link di telegram Che trovate qui sotto in descrizione Basta scaricare la app E cliccare il link di qui sotto Per andare direttamente nel mio canale Oppure cercare Erma TV Insomma poi vedrò il nome Lo scrivo qui sopra in pressione Nella barra delle ricerche di telegram E troverete il mio canale Quindi vi invito a passare un mi piace Commenti a condividere il video Se volete supportarmi E portare appunto questo video a più persone Quindi aumentare i membri del gruppo E rispondere alle più possibilità Che il vostro piano si è sponsorizzato Noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi